Ciao a tutti, sono sempre il Greg e questo è il mio canale in genere horror. Appuntamento mensile con il video dedicato alle uscite del mese, l'uscita del mese di ottobre, sia per quanto riguarda le sale cinematografiche ma anche per quanto riguarda le varie piattaforme streaming. Si comincia con il 6 di ottobre sulla piattaforma Midnight Factory Channel con The Innocence, film di Eskil Vogt, film finlandese del 2021, che narra la storia, è un romanzo di formazione, un racconto di formazione con protagonisti quattro ragazzini che si incontrano in vacanza, che giocano insieme, che scoprono di avere tutti quanti dei poteri paranormali, sovranaturali. Questi poteri li farà riunire, avranno molta intesa, giocheranno, faranno i loro giochi ovviamente innocenti, come dice il titolo stesso, ma questi loro poteri li metterà i ragazzini nei guai e dovranno affrontare situazioni pericolose per la loro incolumità. Sempre il 6 ottobre, questa volta in sala, ma ancora una volta un film finlandese di Anna Bergholm, The Hatching. È la storia di una ragazzina, di una ragazza di 12 anni, che viene a scoprire, a trovare un uovo, uno strano uovo che porterà a casa, comincerà ad accudirlo, a tenerlo al caldo, questo uovo aumenterà di dimensioni finché non si schiuderà e da lì uscirà quella che si intravede, si può intuire essere una creatura, un qualcosa che comunque creerà scompiglio. È una situazione molto strana, molto bizzarra, perché il film, già dal trailer, se lo guardate, dà alcuni spunti, dice e non dice, però il film potrebbe essere veramente la rivelazione dell'anno. Ancora una volta un film dai paesi del nord, Europa, ancora una volta un film dalla Finlandia. Arrivano film per gran parte molto interessanti, comunque originali e comunque molto particolari. Esce in sala il 6 ottobre da vedere sicuramente. Il 7 di ottobre, questa volta su Netflix, Mr. Harrigan's Phone, un film tratto da un racconto breve di Stephen King con Donald Sutherland, che interpreta un anziano signore, una persona che fa amicizia con un ragazzino. La loro amicizia però verrà spezzata dalla sparizione, dalla scomparsa di questo anziano signore e il ragazzino rimarrà da solo, ma riceverà delle telefonate dal telefono di questa persona e riceverà dei messaggi misteriosi. Il 13 ottobre sui canali Midland Factory Channel esce Sissi, che è una storia incentrata su una famosa influencer, una donna, una ragazza che viene invitata ad una festa per un addio annubilato da parte di una sua amica, di vecchia data, però durante questa festa di addio annubilato il ripercorrere il passato farà tornare alla mente a questa influencer quello che ha subito da giovane, atti di bullismo e tutta una serie quindi di situazioni psicologiche difficili e tutto questo la porterà diciamo a perdere la testa durante questa festa. 13 ottobre, altra è una data importante per un film attesissimo, è il terzo capitolo con firma David Gordon Green per Halloween, è Halloween Ends, è quello che ormai secondo gli autori del film sarà la conclusione definitiva della saga di Halloween. una responsabilità importante perché alla fine la saga di Halloween inizia nel 1978 con i film di Carpenter quindi è una bella responsabilità. Vedremo se sarà veramente la fine della saga con protagonista Michael Myers, sarà sicuramente la fine per la protagonista non tanto per Laurie Strode ma comunque l'ultima interpretazione, immaginiamo veramente l'ultima per Jamie Lee Curtis. Quindi vediamo cosa ne verrà fuori e vediamo se questo ultimo capitolo avrà veramente un po' di peso e sarà un film di spessore. Quindi il 13 di ottobre in sala, le date erano cambiate, inizialmente erano il 20, uscirà il 13 che è un giorno prima dell'uscita del 14, ottobre dell'uscita americana, quindi abbiamo anche questo privilegio, andiamo a vederlo. Il 27 di ottobre esce il terzo film di Donato Carrisi che ormai scrittore di fama internazionale porta un altro suo romanzo, lo dirige e quindi in maniera definitiva lo si può considerare uno scrittore che si presta anche al cinema, fa thriller, fa horror. Questo è un thriller con contorni anche favolistici, fantastici. Ci sono tre personaggi, c'è un paesino di provincia, tre personaggi, c'è l'uomo che pulisce, che è un etturbino, c'è la ragazza col ciuffo viola e fra i due nascerà un'amicizia e c'è una cacciatrice, la cacciatrice che va a cercare quello che è il colpevole che sta uccidendo delle donne in paese. Quindi è un thriller, dalle tinte forti perché sa anche pestare sull'acceleratore, Donato Carrisi, però vediamo, perché ci sono delle componenti che potrebbero essere anche, come dicevo, un po' fantasy, un po' favolistiche. Vediamo il risultato di questo suo terzo film. Il film esce in sala e vediamo com'è. Altra data importante perché il 28 di ottobre esce nelle sale italiane la trasposizione di Dampir. Il film, il fumetto edito da Bonelli, editore, diventa film, è una mega produzione italiana, 15 milioni di budget, se mi sono informato bene, comunque una grossa produzione italiana per un film incentrato sul personaggio che rappresenta la figura mitologica metà uomo, metà vampiro, insomma chi conosce il fumetto sa già benissimo di cosa si parlerà anche perché è un origin story quindi si parlerà di primissimi numeri, di primissimi albi. Quindi è un film attesissimo soprattutto perché la produzione è bella importante, è un horror italiano, è un horror tratto da un fumetto, insomma ci sono tanti motivi per andare a vederlo. 28 ottobre, Dampir nelle sale italiane. La regia è dell'esordiente Riccardo Chebello. Il 30 di ottobre esce anche il remake francese, qui non lo so quanto ce ne fosse veramente bisogno, però è il remake francese di One Cut of the Dead, di Zombie Contro Zombie, quella bellissima comedia horror di Gueda, regista e film giapponese, che non tanti conoscono ma che poi con l'uscita in DVD è diventato sempre più famoso. In Francia hanno deciso di farne un remake, si chiamerà Cut, Zombie Contro Zombie, sono curioso di andare a vederlo, però bastava il film giapponese che comunque di pochissimi anni fa, è veramente recentissimo, recuperatelo perché il film è uno spasso ed è veramente veramente bello. E come ultima nota a margine volevo anche dire che il 6 di ottobre esce, non l'ho menzionato prima perché comunque è un fantasy di stile fumettistico, esce Everything, Everywhere, All at Once, che è un film prodotto e distribuito dalla A24, quindi la nostra cara A24 propone questo film che comunque non avrà, non sarà un film horror ma è un film con la presenza di Jamie Lee Curtis e insomma un film che parla del multiverso, quindi vediamo che cosa l'A24 riesce a fare parlando del multiverso che tanto viene utilizzato come argomento nei film fumettisti, nei film nei cinefumetti diciamo. Quindi ho menzionato anche questo, in un ottobre comunque ricchissimo di film, ci sono film finlandesi, quindi Nord Europa ancora protagonista, Scandinavia ancora protagonista, ci sono anche film italiani attesissimo, attesissimo per me anche Dampir perché voglio proprio vedere che cosa ne verrà fuori da questo film, tutti i film che escono in sala e sulle piattaforme streaming vi invito a vederle, in sala soprattutto per sostenere la sala ma anche anche le piattaforme streaming, la Midnight Factory ne sforna tantissimi, stare al passo con i film che escono è quasi difficile però ogni mese ne escono e sono ben felice di questo, Netflix ogni tanto ne fa uscire qualcuno anche su Prime Video questo mese non ce n'erano, cercherò di guardarli tutti come al solito e seguiranno il primo possibile i video per parlarne insieme. Alla prossima!